Afghan Breakdown La prima e più sconvolgente testimonianza dell'epilogo della guerra in Afghanistan Il film con il quale lo Stato Maggiore dell'Armata Rossa ha consentito di svelare il segreto sulle ultime operazioni in Afghanistan Michele Placido è Bandura, un eroe per i suoi soldati Mi piace combattere con lei, molta azione e poche perdite Un sovversivo per i suoi superiori Chiedo di essere sostituito nella missione di domani È una gran vigliaccata Afghan Breakdown Maggiore, gli uomini di Adir ci stanno attaccando come delle bestie Assa, sotto i carri, fate giù Che senso ha il sacrificio di un uomo Quando l'amore non ha più speranza Quando la guerra sembra non aver fine Quando è intorno c'è solo distruzione Afghan Breakdown Mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, ore 20 e 30 Rai 2